come stiamo? io volevo cercare solamente una cosa no? ma non c'è più buia? solamente indori uno faccia zoccoli? no perché non è così, tutto quanto ci arrangiamo e non c'è questa vita, non c'è questa vita, non c'è questa vita, non c'è una peccata e se non fanno zoccoli fanno contrabbanda perché marita c'era una roba che stanno in prigione è stata colpa la guerra, tutto quanto mi sono imparata a dicere così, quello che io vorrei è il problema, solamente capo prima di avere la dignità, l'onore, sì, sì, ma non c'è, pure se questa parola non c'è una femmina come a me ma non mi ricerchio niente, ma pure sono stata una femmina onesta come sa già avrei avuto 16 anni, ero piccola, stavo a prestare l'innamorata, capo prima spera questa ricetta che mi voleva bene, che senza me non poteva stare, poi ricetta pur che non mi dono sorda che si fa spazio, e che se io volevo veramente bene fare qualcosa per questo, vabbè, tu mi ricordi che cosa è sorda, per mancare la sigaretta, per cenarelle che compagna, per chi che è femmina, per chi che è femmina, per chi che è femmina, ma che crotina che sono stata, ma chi abbassa e fa che non faccio queste mani, è così come sa, sono diventata quella che sono, e così ho smesso di sperare. Grazie.